Con tre mesi di anticipo sul cronoprogramma, a Livorno è stato inaugurato il primo lotto di lavori da 5 milioni di euro sul Rio Maggiore, appena dietro allo stadio Armando Picchi. Erano presenti all'inaugurazione il presidente della regione toscana Eugenio Gianni e l'assessora regionale ai lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile, Monia Moni, accompagnati dal sindaco Luca Salvetti e dal consigliere regionale Francesco Gazzetti. Mi sento orgoglioso quando vedo che il genio civile, la protezione civile, il sistema della difesa del suolo riesce a dare queste risposte. Non ne ho merito perché sono presidente da poco più di quattro mesi, ma il lavoro che è stato fatto da quella fatidica notte che ancora ho ben presente nella mia mente, è stato un lavoro che ha mostrato efficienza, competenza e capacità operativa che vediamo anche nel modo con cui oggi l'acqua qui scorre e magari allora avesse avuto la possibilità di sfogo e di scorrimento che oggi qui vediamo. I lavori, iniziati il 13 gennaio 2020, consistono nello stombamento del torrente, nell'ampliamento della sua sezione, così da renderlo in grado di far defluire senza problemi una massa d'acqua pari a quella caduta nel corso del disastroso evento alluvionale che si verificò nel settembre 2017, quando morirono in totale otto persone. Una tragedia che ha colpito tutta la città di Livorno, raccontare e vedere uscire i vigili del fuoco dalla villa che è qua vicino e annunciare che c'erano quattro morti, è un passaggio che ha segnato tutta la città, inutile dirlo. La reazione quale doveva essere? Doveva essere quella di fare di tutto per mettere in sicurezza il territorio. E devo dire che la regione toscana e il genio civile hanno fatto un grande lavoro. Questo primo lotto ha riguardato l'adeguamento del tratto da via Rodocanacchi a via dei Pensieri, in zona stadio, e sono stati realizzati due nuovi ponti. L'opera inaugurata oggi costituisce il primo di sei interventi sul rio Maggiore, per un totale di 38 milioni di euro di lavori. È il primo intervento di questo tipo, per dimensioni e lunghezza, in Toscana. Questo che vedete alle mie spalle è il primo lotto, è un lotto particolarmente significativo perché è il primo stombamento che questa regione ha effettuato. Quindi il fiume è stato riportato a cielo aperto, la sua sezione è stata raddoppiata ed è un intervento che attraversa la città, accanto al corso del fiume potete vedere alle mie spalle anche lo stadio, quindi attraversa il cuore vivo della città. Grazie.